TG News di Nuvola TV 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 di Forio, il sindaco di Lacomeno, il commissario Lenini e anche dell'attivista storica di Ischia, Caterina Iacono. Qual è il senso proprio di citare questi nominativi, quasi come voler portare all'attenzione quella che è l'animo dell'isola di Ischia? Ma il fatto di aver citato, lo ripeto ancora una volta, i rappresentanti delle istituzioni locali, anche degli attivisti che si sono presentati alle recenti amministrative come candidati sindaco nel caso dell'Iacono per il Movimento 5 Stelle, non è solo quello di citare i rappresentanti e basta, ma perché loro sanno esattamente di che cosa stiamo parlando, sanno esattamente quali sono i problemi sul territorio, sono stati auditi dalle commissioni competenti, ma dopo queste audizioni le risultanze di queste audizioni non si sono tradotte effettivamente in provvedimenti efficaci e questo veramente fa piangere il cuore perché significa che non hanno ascoltato la voce di chi è sul posto, chi è sull'isola di Ischia. Lei ha un cognome di origini ischitane? Sì, Mazzella erano dei miei parenti, dei miei avi che si trovavano sull'isola di Ischia e che poi si sono trasferite sulla terraferma, ma il mio cognome è legato proprio all'isola di Ischia, un'isola che io amo particolarmente, un'isola che io ritengo non debba essere considerata un'isola di serie B, ma un'isola di serie A. Cercherò di intercettare, lo ripeto, gli amministratori locali per parlare con loro, per vedere ancora che cosa si può fare per la amata e splendida isola di Ischia, che merita maggiore attenzione. Venerdì scorso, presso la sala F7 della stazione centrale di Milano, si è tenuto il focus Ischia Modello di Turismo Resiliente, un evento dedicato alla promozione strategica dell'isola verde, realizzato grazie alla collaborazione tra istituzione pubblica e imprese. Il focus ha aperto la serie di workshop tematici organizzati dalla regione Campania per promuovere le sue eccellenze a Milano, che rientrano nel progetto Exempla, il Grand Tour del Saper Fare Campano. Presenti all'evento, rappresentanti delle istituzioni isolane del settore turistico, che hanno partecipato attivamente al focus, moderato da Rosanna Romano, dirigente e direttore generale della cultura e del turismo della regione Campania. Su questo importante evento abbiamo intervistato il sindaco di Lacameno, Giacomo Pascale. Sentiamo. Sicuramente applaudita la regione Campania e l'impegno e la sensibilità istituzionale è messa in campo dal primo momento, l'aveva promesso il Presidente De Luca, l'assessore Casucci, voglio ringraziare Luigi Raia, voglio ringraziare la dottoressa Rosanna Romano per tutto quanto stanno facendo. Un appuntamento che al primo giorno ha visto le istituzioni, ma comunque c'è una settimana di appuntamenti che riguarda l'intera regione Campania, il settore turismo, dove anche noi isolani saremo presenti. Penso per esempio al focus per i beni culturali con la dottoressa Mariangela Catuogno, piuttosto all'enocoastronomia con il nostro Nino di Costanzo, insomma voglio dire che tutti gli isolani stanno dando una mano, voglio ringraziare anche Gino Riviecio, Lina Sastri che sono stati testimoni di questo primo appuntamento, sono molto legati all'isola come si sa e questo è importante, è importante come dicevi tu e anche sulla falsariga di quando poi ha in animo di fare il Ministero del Turismo con la Sant'Anche che venne a Ischia per dire che sarà istituito un tavolo presso il Ministero a Roma dove i sindaci e le associazioni di categoria saranno protagonisti nel poter promuovere il territorio in stretto contatto con l'Enit a partire dagli appuntamenti fieristici più importanti che si terranno a Milano piuttosto che a Berlino, a New York etc. Io penso che queste siano iniziative giuste che però chiaramente devono essere accompagnate da quei provvedimenti che noi stiamo chiedendo in sede parlamentare per poter dire alla gente venite a Ischia e soprattutto perché ci venite in sicurezza, noi serve parallelamente a questo, serve continuare a lavorare d'intesa col Commissario Legnini affinché si mettano in campo quelle azioni tali e tante da poter far passare il messaggio secondo cui Ischia è sicura perché oggi in questo momento questo messaggio non è passato e a noi dispiace perché poi tra l'altro non corrisponde al vero. Chiaramente non mettere in sicurezza l'isola di Ischia, mettere in sicurezza quelle porzioni di territorio che in questo momento hanno dimostrato maggiore fragilità e con interventi di somma urgenza che sono già in cantina, il piano di interventi a farsi si sta già redigendo da parte del Commissario Legnini. È chiaro che proprio questo DL che poi dai primi di febbraio spiega effetto anche ai fini della possibilità di attingere alle risorse che sono state assegnate, metteranno il Commissario nella condizione di procedere almeno in quella parte di territorio dove maggiormente si rende necessario intervenire. È chiaro che questo è il messaggio, questo è l'auspicio e l'augurio di tutti che prima iniziano queste attività, prima siano visibili ma soprattutto che vengono veicolate e comunicate nel modo giusto e la Regione Campania sta appunto operando in questa direzione. Questo è il modo concreto di essere vicino come istituzione e di aiutare l'isola di Ischia in questo momento che ne ha particolarmente bisogno anche perché è un aiuto tra l'altro ad un luogo che all'interno della Regione Campania rappresenta quanto già si sa e quando è importante metterlo in sicurezza proprio per dire ai turisti venite a Ischia, venite in sicurezza. Dopo mesi di attesa questa mattina è stato inaugurato il plesso dell'infanzia di Succhivo, una cucina interna ed una nuova sala mensa saranno messe a disposizione dei tanti bambini che da oggi popoleranno la struttura. Il plesso da sempre ha fatto fronte alle tante richieste da parte dei genitori della zona, sia per la posizione in cui è collocato sia per i servizi offerti, tra cui il servizio mensa. I lavori che sono stati svolte in questa struttura l'hanno resa più sicura ed accogliente per i nostri bambini. Nei prossimi anni sono previsti altri ampliamenti del plesso, ha dichiarato il sindaco di Serrara Fontana Irene Iacono. L'intervista. Sindaco Irene Iacono, l'inaugurazione di una scuola è sempre un bel momento per tutta la comunità. Qui a Succhivo c'era bisogno di un restyling? Sì, avevamo bisogno di un restyling, un progetto questo nato con la sindacatura di Rosario Caruso che oggi vede il suo compimento finale. Oggi questo plesso risulta essere messo in sicurezza da un punto di vista sismico, efficientato energeticamente parlando. Quindi siamo veramente felici oggi di poter consegnare alla nostra comunità di Serrara Fontana un vero e proprio gioiellino. E diciamo che nella prossima estate i lavori a questo plesso continueranno perché c'è stato finanziato l'ampliamento dell'istituto con la creazione di un'aula mensa. Quindi riusciremo ad avere tre sezioni e appunto a fare didattica differenziata per i piccolini di 3, 4 e 5 anni. Con un servizio mensa all'interno, quindi cucina fresca, cibo genuino. Ecco è l'opportunità anche per i genitori che lavorano di poter lasciare in sicurezza qui i loro bambini perché questa struttura è una struttura a tempo pieno. Ecco questo è quello a cui noi dobbiamo tendere, dobbiamo diciamo dare servizi alla comunità e quindi anche quello che sembra forse scontato come un asilo messo in sicurezza in realtà non lo è affatto perché diciamo è il punto di partenza per l'erogazione di tanti servizi anche da un punto di vista proprio sociale perché ecco è importante che i genitori che debbono oggi lavorare entrambi spesso nel nucleo familiare debbono poter essere tranquilli di lasciare i loro figli nelle giuste mani e quindi ecco un'amministrazione ha il dovere di guardare oltre, ha il dovere di intercettare finanziamenti per poter apportare sempre più miglioramenti alle strutture presenti sul suo territorio ed erogare tanti servizi. Quindi questo è solo un punto di partenza perché poi ci saranno anche altre novità nel corso di quest'anno riguardo alle scuole. Quindi Serrara Fontana è una comunità che vuole crescere culturalmente. Noi come amministrazione abbiamo sempre creduto in tutto ciò e quindi continuiamo a lavorare in questo senso. Un progetto che si completa perché ricordiamo che la messa in sicurezza da un punto di vista sismico e di efficientamento energetico parte dalla scuola di Serrara che anch'essa è veramente un piccolo gioiellino. A breve credo che completeremo anche lì la parte esterna per poter dare una zona ludico-ricreativa ai bambini. Dopodiché abbiamo continuato con la scuola primaria di Fontana che è stata ristrutturata totalmente, sventrata e rimessa a nuovo. Adesso anche lì nel 2022 è stata fatta l'inaugurazione ma anche lì stiamo pensando di progettare uno spazio sportivo al coperto perché oggi esiste l'area ricreativa ma è all'aperto e quindi stiamo pensando anche di poter riprogettare uno spazio dedicato allo sport. E poi chiudiamo con Succhivo che a breve si completerà con l'ampliamento dell'aula mensa. Sì, assolutamente è un percorso voluto, ricercato, progettato e che deve trovare il suo completamento anche con l'ex edificio scolastico del Ciglio. Lo sport, accolto dalla standing ovation dei tifosi, Felice Rea è ritornato al Mazzella come allenatore del Giovane Pomigliano. Ritornare al Mazzella per me è sempre un motivo di gioia, soprattutto per l'esperienza che in passato ho vissuto su questo campo e con questa società. Così Rea ha esordito nel post partita. I ragazzi sono stati in partita ma la differenza tra le due squadre c'è e si vede. Spero che l'Ischia possa vincere il campionato, ha aggiunto Rea. Sentiamo. Mister, ti aspettavi di arrivare qui al Mazzella e vista la differenza oggettivamente tra le due squadre di disputare questa partita e quasi di trovare il pareggio lì sull'1-0? Allora, partiamo dal fatto che venire qui al Mazzella per me rappresenta sempre un motivo di gioia perché nel nostro passato c'è un'esperienza vissuta bellissima qua a Dischia e quindi per me è sempre un'emozione nuova. Per quanto riguarda il campo i ragazzi hanno fatto il possibile, diciamoci la verità, l'avevamo preparata così perché ovviamente provare a giocarla a viso aperto con una squadra di questo spessore sarebbe stato non di consucidio ma avremmo potuto veramente fare molto molto peggio. Invece siamo stati in partita, abbiamo rischiato di fare gol, qualche ripartenza magari gestita meglio, senza fretta, ci avrebbe potuto portare alla rete, però oggi la differenza tra le due squadre è enorme. Il direttore ha parlato di un'Ischia favorita lì in classifica, anche per questo legame un po' speri di vedere l'Ischia in Serie D. È ovvio, non voglio nemicarmi nessuno, però se ci dovesse essere una squadra che poi alla fine la potrebbe spuntare, mi fa piacere se fosse poi l'Ischia dei miei amici, di Enrico e di tutti quanti voi voglio dire. Diciamo che siamo passati da un eccesso all'altro, da avere tante certezze ad averne poi poche, e poi siamo riusciti a mettere insieme un gruppo di ragazzi che dà l'anima in ogni partita. Poi è ovvio che ogni partita è una storia a sé, questa è già passata, quindi testa alla prossima, cercando di cominciare a muovere la classifica per arrivare poi il più presto possibile all'obiettivo che ci siamo prefissi. Hai una squadra, malgrado la giovane età, composta da giocatori che comunque tecnicamente molto dotati, anche di grande personalità, non a caso secondo tempo avete creato quattro nitide palle. I ragazzi, non mi va di parlare del singolo calciatore, però è sempre il gruppo che poi alla fine eleva il singolo. Noi squadra abbiamo diversi giovani interessanti che possono fare bene. Sono fiducioso per il proseguo. Speriamo, come vi dicevo prima, di cominciare già da domenica a racimolare qualche punticino sulle altre. Come mai tanti grandi? È perché i ragazzi, se dovesse dirvi la verità, i ragazzi erano molto dietro, chi non giocava da qualche mese. Diciamo che in questo momento le difficoltà più grandi sono queste. Prima di salutarci diamo uno sguardo alle previsioni meteo. Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, quando una circolazione di bassa pressione sarà ancora isolata sul Mediterraneo centro-meridionale e quindi ancora precipitazioni attese al sud e sul medio adriatico. Al nord invece tendenza a un miglioramento. Nel dettaglio possiamo notare come ci saranno queste precipitazioni attorno al centro depressionario in quota. Fenomeni attesi dalle Marche alla Puglia, in generale un po' tutto il sud, anche la Sicilia vedrà rovesci e temporali. In sintesi la mappa dell'Italia con l'instabilità tesa sul medio adriatico e soprattutto al sud, anche a sfondo temporalesco. Neve sull'Appennino fin verso gli 800.000 metri di quota, quote anche più basse sull'Abruzzo e sulle Marche meridionali. Al nord e sulla Toscana invece sole alternato a un po' di variabilità di annuvolamenti ma senza rischio di piogge. Dettagli ulteriori scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo. Per questa sera è tutto, il TG News ritorna domani alle 20.30. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.